Buon salve e benvenuti in questo nuovo Valemas Raga, ho sonno, mi sono appena svegliata Presto anche oggi perché dovrò fare due shooting Uno la mattina e uno il pomeriggio Però sono stra felice perché oggi è già il 14 Quindi tra dieci giorni è la vigilia di Natale E io aspetto più la vigilia che il Natale, vero Perché io festeggio il 24 sera Voi quando festeggiate, che sono curiosa di saperlo Io ho 24 sera, però c'è gente appunto che festeggia il 25 pranzo Boh, dipende, fatemi sapere E niente, apriamo subito il calendario dell'avvento Poi devo sbrigarmi, prepararmi e tutto quanto Perché devo andare a fare delle foto molto molto belle E oggi riuscirò, per forza, mi obbligo A passare anche in Duomo a comprare i regali di Natale Perché sono stragasata E ne ho in mente veramente di molti molto belli E niente, questo qua è il pacchettino del 14 Altre calze! Ormai mia mamma, abbiamo capito Ha una passione innata per le calze Comunque sono molto molto carine Sono queste qui Fatte così E poi questa qua, molto molto semplici Io comunque ho la passione per le calze sobrie Cioè guardate le calze che ho su ora, ad esempio Con le fragoline E niente Adoro Però cavolo, non ho idea di cosa comprare io ai miei genitori Alle mie amiche per Natale Vi giuro, mi sto scervellando Penso che farò un po' di cose personalizzate Tipo quelle foto Perché sono sempre belle quelle cose Quelle foto e tutto quanto Però devo sbrigarmi Cioè tra dieci giorni è Natale, capito? E alle mie amiche di Milano devo darle prima Perché poi salgo in Svizzera Quindi aiuto Che ansia Dovevo pensarci prima Sono sempre Ritardo a Natale Faccio sempre tutto all'ultimo minuto E nulla Ora mi preparerò Prima o poi Mi preparerò Na 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 Per un po' Let it go Non so perché di questo stacco musicale Comunque È uscito Frozen 2 Io voglio andarlo a vedere Comunque niente Ora mi preparo E poi ci risentiamo Perché dobbiamo andare a fare Foto Amici Eccomi qui Mi sono un attimo preparata Perché Valeria Ferrani Deve essere sempre al top E sto per uscire di casa Per andare in Duomo A fare le foto E dopo le foto Bellissima notizia Andrò a fare shopping Di Natale con Marta Aspetto questo momento Vi giuro da inizio dicembre Lo shopping di Natale È la cosa più bella Che ci sia E poi per fortuna Andrò con Marta Almeno non sono da sola Ed è ancora ancora più divertente Mi sono presa uno zaino Pieno di vestiti Per fare le foto E niente Quindi Vamonos Voi mi chiedete sempre Vale ma sei fidanzata Vale ma è ragazzo Amici sì Io sono fidanzata Ho un ragazzo Però non lo vedete mai Perché vive in un'altra nazione E voi vi chiederete Vale ma In che nazione vive? Nell'immaginazione Bellissima Questo è il mio mood di vita Immaginazione Bellissima Ok La smetto Vado Troppo bella Con questo magnifico sottofondo Del camion Della spazzatura Volevo dirvi che sono appena arrivata In Duomo Con i miei due zaini E sto vagando Alla ricerca Del fotografo Amici sono arrivata qui E guardate chi c'è Giacomizio Indovinate cosa fa Mangia Non lo dirà la mia ragazza Di Serrabia Serrabia Però Sono a dieta Però Non si sente in colpa Perché ha preso Uno dog vegano Con tipo La salsiccia vegana Fatta di Piselli E quindi vai Recensione in diretta Poi vi diciamo com'è Cosa ne pensi Le tue prime sensazioni E' buono Sa di spezzi E basta Però Non mangiabile Passabile Ne scrocco un morso Giacomizio Voglio fare anche io La recensione Non sa di niente Spezzi Io boccio Amici Faremas Giusto? Sì Faremas Allora Salto Temporale Oddio Scusami Salto temporale Mi avete visto oggi Con Giacomino Mentre lui mangiava Le robe vegane Giacomino mangiava Le robe vegane Perché aveva già pranzato E si sentiva in colpa Di prendere il McDonald's E quindi ha preso Le cose vegane Vabbè Comunque Ho fatto lo shooting Ho fatto le foto Mi sono fatto fare Tutte le treccine Trucco Cose Che voleva sciogliere Adesso Esatto Secondo voi Sono bella o no Perché non capisco Cioè non so Sì sei bellissima E vabbè Comunque mi sono ritrovata Guardate I miei Blackout Mi sono ritrovata Con i miei due amorucci Noi E quindi Ora Ci stiamo ritrovando Con gli altri E poi Niente Ci aggiorniamo E poi andiamo a Vaila No non è vero Magari Sono degli sfaticati Non è vero C'è un pochino Stiamo sbagliando strada Top Amici Noi abbiamo fatto Appena un tiktok Strepitoso In cui Io facevo il prete Quindi dovete assolutamente Vederlo sul suo profilo E mi spezza Ormai il mio mood O la candela O il prete faccio Devi farmi così Fai la prova Mamma è un cazzo di velo Si fa così E mi devi dire Che sono bellissima Ti dico che sei bellissima Spontaneo O una cosa simile Ah ok Una cosa spontanea Capito Che faccia già Commuovere tutti quanti Ma devo gridarlo No non lo devi dire a me Però la gente capisce Mamma Vale Ha portato la pasta La sua bimba Leve storia triste C'era troppa gente In Duomo quel giorno Quindi non abbiamo neanche Fatto shopping Il pomeriggio E quella sera Non ho più vloggato Perché non ero Molto di buon umore Ero molto giù di morale Presa male Avete presente Quando senza un motivo Siete tristi E non lo so Non avevo voglia Veramente di fare nulla Ed ero Boh Sola Avevo bisogno di affetto E so che Fare video di solito Mi aiuta Per questo Però Odio fingere Cioè odio veramente Non essere me stessa Con voi Perché è il mio obiettivo Quello E quindi piuttosto che fare video Challenge Divertenti Se in realtà Non avevo voglia di farlo Ho preferito Lasciar perdere E recupero ora Che invece Ho voglia E sono presa bene Scusatemi Però veramente Più forte di me Avrei potuto benissimo Fare una challenge Avrei potuto benissimo In realtà Registrare il giorno dopo Cioè o oggi E fingere che sia stata La sera stessa Per non avere Uno stacco temporale Tutto quanto Però non ce la faccio Cioè vi giuro Non riesco a fare Robe tarocche Cioè voglio veramente Dirvi quello che Succede realmente E come sto realmente E niente Ho avuto appunto Questo momento Di uno o due giorni Un po' giù Però ora Mi sono super ripresa E raga Nei prossimi giorni Farò dei valemas Spaziali E non lo dico così per dire Voi dovete Esserci Alle 18 Sempre Perché vi giuro Farò Un sacco di video Con altre persone Bellissimi Regali di Natale Vedrò Le mie amiche Della Svizzera E con la mia famiglia Insomma Ci saranno veramente Delle cose assurde E quindi Preparatevi Perché nei prossimi Valemas Bomba Comunque A volte Vedendo tutte Le mie amiche Fidanzate E facendo sempre La candela Della situazione Mega vorrei Una persona Che mi ami Cioè nel senso che A cui piaccio Così come sono E che a me piace Cioè nel senso Alcune mie amiche Mi dicono Dai vabbè Vai con quello Però capite Io non Voglio fidanzarmi Così a caso Come fanno Alcune persone Solo per moda Solo per Perché mi sento sola Cioè Voglio trovare una persona Che realmente mi ami E che io Realmente ami Non è assolutamente facile Chissà se un giorno Arriverà E niente È una sad story Che volevo condividere con voi Perché realmente Vedo che L'amore sta colpendo Tutti intorno a me Cioè le persone Con cui mi deprimevo Di essere single Si stanno fidanzando Tipo la mia migliore amica Tipo Eli Tipo altre persone E poi ci sono io Che in realtà Sono sempre Ma è una gioia Però vabbè Almeno ho voi Che siete i miei grandi amori Mi fate compagnia E ho il mio orsetto E risponderò What's happening here? Risponderò ad un paio di domandine Prima però Accendiamo la magnifica Yankee Candle Per dare un po' di atmosfera Molto sensuale E aiuto Non so se ce la farò Perché è tipo Super consumata Quindi Un'impresa un po' complicata Ce l'ho fatta Prima domanda è Le tue migliori amiche Sia del web Che non Allora Io non Tendo a categorizzare Le amiche O in generale Non è che dico Tu sei la mia migliore amica Tu seconda Tu terza Tu non sei mia amica Cioè Semplicemente Mi vivo i rapporti Con le persone E così Però Ho delle amiche Molto strette Sia in Svizzera Che sono Anna Lei Sveva Chiara E Alissa E poi A Milano Sono molto 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 legata Con Marta Ed Elisa Che sono I miei due cuoricini La tau canzone E film preferito Allora Per quanto riguarda il film Qualsiasi film Purché sia di Natale Perché sono gli unici film Che guardo Durante tutto l'anno Non guardo mai mezzo film Durante il periodo di Natale E come Anche se finora Non l'ho ancora visti Però di solito Dal Natale In poi Quando ci sono le vacanze Mi prendo molto più tempo Per guardare film Mentre canzone Sei la cosa Più bella Che indosso Sei risorsa Sei il cielo E sei il mondo Sei la strada Che può Sì Piccola stella Di ultimo nel cuore Cosa ne pensi Di cosa sta succedendo Con Mariana Resta Tutti di voi Mi hanno chiesto Vale Ma sei tua amica Perché non ne parli E così E non ne ho parlato Sui social Però comunque A lei in privato Le ho scritto E sto cercando Di esserle vicina Perché comunque Sta passando Un periodo Veramente difficile Ma lei è una persona Fortissima Cioè penso che sia Una delle persone più forti Che io abbia mai conosciuto Che nonostante Sta passando Ma non le ho scritto Mi dispiace Perché Mi dispiace Ne avrà sentiti Fin troppi Le ho detto Sei una forza della natura E che deve essere fiera Di ciò che è Perché sono rare Le persone così Io penso che al suo posto Mi sarei demoralizzata Non avrei lottato così Come ha fatto lei E quindi Bisognerebbe tutti Prendere esempio Per quanto riguarda La situazione Il fatto che La sua famiglia Non accetti Il suo orientamento La trovo veramente Una cosa Assurda Nel 2019 Perché pensavo Si fosse superata Questa fase Di Close mind Cioè di Mentalità chiusa Perché a mio parere Se ami una persona Se stai bene Con una persona Non importa Di che sesso sia Cioè L'importante È che Si sia bene insieme Che si sia felici Che ci sia amore Che è la cosa più bella Della vita Che è la cosa principale Cioè in generale Io da papà Da mamma Vorrei solo la felicità Per mia figlia E se mia figlia È felice con una ragazza Che stia con una ragazza Cioè Basta che abbia Un buon cuore Che la tratti bene Che siano felici insieme Non importa quello Che ha in mezzo alle gambe Cioè detta Papale papale Ci sta che magari Non vogliano Due genitori Che la figlia Stia con un serial killer Con un assassino Però Non ci vedo nessun problema A stare con una persona Dello stesso sesso Questo è il mio pensiero Ognuno Ovviamente la pensa come vuole Però trovo veramente assurdo Che nel 2019 Ci sia una mentalità Ancora così chiusa In generale Secondo me La cosa più importante Nella vita È essere liberi Di fare ciò che si vuole Di fare le proprie scelte E Di essere se stessi Di esprimere ciò che si è Senza essere Giudicati Ma più che giudicati Senza essere Fermati Perché Alla fine Ognuno deve fare le proprie scelte Nella propria vita Ovviamente possono Non piacere a tante persone Ma Non bisogna Fermare Le persone Dal fare ciò che amano Cioè Alla fine Ognuno È libero Veramente Di fare ciò che vuole Basta che ami Basta che sia felice Basta che rispetti gli altri E secondo me Non esprimere se stessi È la cosa più brutta Che ci sia Perché ti senti solo A quel punto Con qualsiasi persona Con qualsiasi Caro Con qualsiasi amico Che cerca di farti ridere Tu ridi ma Dentro ti senti sempre solo Non ti senti A tuo agio Ti senti sempre sbagliato Fuori luogo Perché non esprimi Ciò che sei realmente E non devi avere paura Di esprimere chi sei I tuoi pensieri Le tue passioni Non devi avere paura Di Non piacere alle persone Di essere diverso Di essere La pecora nera Del branco Tu devi Fare ciò che ti senti E vedrai che ci sono persone Che ti ameranno Esattamente per come sei E Non sentirti sbagliato Perché tu vai bene così Ed è la cosa Penso più difficile Da capire a questa età Perché Siamo una generazione Che veramente Vuole sempre Spiccare Vuole sempre piacere Agli altri Vuole sempre Essere perfetta Agli occhi della società Però così facendo Spesso Trascuriamo noi stessi Ed è la cosa Più sbagliata Che possiamo fare Perché noi siamo Le persone Che dobbiamo amare Più di chiunque altro E Questa è la mia opinione E Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Anche perché Pure io spesso Mi Mi trascuro Comunque Mi sento sola Perché Dico Ok no Devo comportarmi In modo diverso Ma ciò che devo fare Realmente È essere sempre me stessa E fare sempre ciò che mi sento E questo penso Deba farlo ognuno di noi Niente Passiamo alla prossima domanda Perché mi sto dilungando troppo Che è Andrai a New York New York È tipo una delle mie città del cuore Vorrei troppo andarci È uno dei miei sogni più grandi Però Non ci sono mai andata Ma ci andrò Se puoi sognarlo Puoi farlo E sicuramente In futuro Ci sarà l'occasione Di andarci E Vi porterò ovviamente Con me Perché tutte le mie avventure Le condivido con voi E Anno migliore della tua vita Questo Il 2019 Anche se nel 2020 Punto ancora più in alto Perché non ci si ferma mai Ma il 2019 È stato veramente Un anno di Rivincita Un anno Fantastico Ci sono state Alcune difficoltà Ovviamente Tanti cambiamenti Perché Ho cambiato casa Ho conosciuto nuove persone Ho fatto nuove esperienze Ho scritto come sta Il mio fotoromanzo Che mi ha dato realmente tantissimo È stato un riscatto Mi ha dato l'opportunità di parlare Di argomenti Che non ero mai riuscita Ad esprimere la parola Mi ha dato Il tour Quindi Ho potuto incontrarvi Ho potuto abbracciarvi Ho fatto lo shooting Del libro Che sono stati dei giorni magnifici Ho scritto Ho fatto un sacco di cose nuove E bellissime Ed è un sogno Perché Solo un anno fa Mi sarei letteralmente sognata Tutto ciò Non avrei mai pensato Potesse Diventare realtà In così poco tempo Non ci ho mai Creduto così tanto E ora Ho avuto la conferma Che se puoi sognarlo Puoi farlo Che Con impegno Passione Amore Si può arrivare dappertutto E io ho ancora tantissimi sogni E sono sicura Che riuscirò a realizzarli Perché Credendo in me stessa Ce la farò Perché Perché si Perché ci credo E Da questo 2020 Mi aspetto veramente Tantissimo E sicuramente Continuerò a fare ciò che amo Mi concentrerò tantissimo Sui social Su Youtube Su TikTok Su Instagram E ciò che voglio È semplicemente Fare ciò che amo Come ho fatto in questo 2019 E stare con voi Stare con i miei amici Con la mia famiglia E Sono veramente tanto felice Di quest'anno Sono cresciuta tanto Sono maturata molto Ho cambiato interessi anche E Ciò che voglio fare In questo 2020 È semplicemente Farmi vedere Per come sono E Vivere Vivere ogni momento Al massimo Scusatemi Se ho la lacrimuccia facile Ma in questi giorni Sono un po' fragilina Quindi quando Mi apro al mondo Divento Una fontana Però ora Basta Smettiamola E passiamo Alla prossima domanda Che è Barzelletta del giorno Perché ovviamente Le battute pessime Non mancano mai Dove c'è Valeria Vedovatti Parlando prima Di solitudine E di tutto quanto Dovete sapere Che il ghiacciolo Non è mai solo Perché è congelato È con Troppo bella Nulla amici Questo video Un po' così È finito Spero vi sia piaciuto Se è così Lasciate un like Iscrivetevi al canale Se no Non ho qua l'unicorno Ma vi lancio Il mio orsacchiotto a casa No non è vero Il mio fidanzato Non ve lo lancio Vi lancio Il tappo della Yankee A casa Vi mando un bacissimo E ci vediamo Al prossimo Valemas Mua